Come è stato già detto, prendere la parola dopo i precedenti interventi non è così facile. Io non ho scritto libri, non li troverete dentro l'aspetto che scrivano di me. Ha funzionato per Platone e Socrate e qualche altro personaggio importante. Anch'io ho una piccola storia da raccontare e ha a che fare con la mia storia. Io sono figlio di due scienziati, due genetisti e ricordo perfettamente quello che dissero il giorno in cui gli comunicai che avevo intenzione di iscrivermi a filosofia. Ricordo in particolare mio padre, mi guardò con un'espressione scientifica e mi disse perché non ti droghi come tutti gli altri? Perché a questo eravamo preparati. Ancora oggi, sembra incredibile, piccole difficoltà quotidiane, ancora oggi quando siamo con gli amici e dice ma tu che fai? Il tuo figlio che cosa fa? Lui prova ad abbozzare una risposta, dopodiché dice spiegaglielo tu perché non riesco, che cosa fai? E si sorprende per esempio che alcune aziende, tra cui Mutti o Aeroviaggi, mi chiamino per fare formazione. E mi dice come mai ti chiamano? Perché? Che cosa gli vai a dire? Ed è curioso di sapere, sempre però con questa espressione non ve la dimenticate, quasi, che è incredibile. Oramai si vende di tutto. Io ero tra quelli che da bambino venivano chiamati alle feste con il solito invito, lo chiamiamo perché ci fa ridere. E di fatti era inquietante tutte le volte perché dovevi tenere banco e quindi Nicola facci ridere. Era una delle frasi che ricordo con un'angoscia terribile. Perché la vita del clown è una vita in realtà tristissima. Perché? Perché ci sono momenti in cui hai la morte nel cuore e devi fingere. Vesti la giubba e la faccia in farina. Perché? Perché sembra quasi che in fondo ridere sia un modo per sfuggire, scappare dai nostri problemi. Invece non è così. C'è qualcosa di molto più profondo nell'umorismo. Qualcosa che ho scoperto poi nel tempo. E l'ho scoperto passando attraverso i filosofi. E sembra un paradosso perché non è che, sai, ho visto Kierkegaard, non mi pareva proprio così. Alcuni ossessivi tipo Kant non ce lo vedi a far battute. E in effetti non ne faceva. O se le faceva nessuno le capiva. Però in realtà è stato un modo anche di reagire a molti di quei sistemi filosofici. Immaginatevi quando mi presento e dico salve, sono laureato in filosofia, passeremo insieme due ore. Vedi la gente? Eh no. Cioè anche questa. Poi scoprono che il mio modo di filtrare la filosofia è un modo leggero. Perché come disse una volta, c'ho due diapositive, fatemele. Come disse una volta Calvino, non bisognerebbe giudicare la leggerezza come superficialità. Gli dedicò, pensate, una intera lezione delle lezioni americane, fu dedicata proprio alla leggerezza. E lui diceva, io ho avuto sempre questo pallino della leggerezza. Perché essere leggeri non vuol dire essere superficiali. E io tutta la vita ho tentato nei miei romanzi di togliere peso alle città, rendendole invisibili e leggere. Ai personaggi creando dei cavalieri inesistenti. O baroni rampanti. Sì, sì. Perché tutta la vita ho cercato di ridare valore alla leggerezza. Che leggeri vuol dire non avere macigni sul cuore. E planare sulle cose dall'alto. Ed è interessante che lui dica come proprio l'umorismo sia una forma che introduce leggerezza in quello di cui stiamo parlando. E entrambe le relatrici di prima lo hanno fatto mirabilmente. Raccontando la loro condizione, anche le loro problematiche, ma mettendoci un elemento di leggerezza che non ha tolto valore a quello che stavano dicendo. Gliene ha dato di più. Ci ha concesso di entrare persino in quel dolore senza averne paura. Senza esserne esterrefatti. Ecco, Calvino lo spiega molto bene. E lo spiega attraverso il mito di Perseo e della gorgone, no? Medusa. E dice, inutile tentare di sconfiggere la gorgone andandoci incontro. Perché? E guardandola direttamente. Perché vi trasformerà in pietra. Quanti problemi, a forza di guardarli, ci fagocitano e ci trasformano in pietra. Nietzsche diceva, attenti a guardare troppo a lungo dentro l'abisso, perché poi l'abisso vorrà guardare dentro di voi. È un attimo diventare mostri, eh? È un attimo. Quindi, attenzione a non indugiare troppo in quello sguardo, perché altrimenti diventiamo pietre. Certo che siamo in un periodo terribile. Certo che siamo in un periodo difficile. Ma non è che nel Medioevo si stesse molto meglio, eh? Cioè, beh, però le armi nucleari non le avevano. No, ma avevano due o tre altre cosine interessanti. Quindi, poi andatevi a vedere il discorso Santa Inquisizione, fa parte di un'altra cosa. Comunque, non è che, dice, sai, era migliore. Ogni epoca ha le sue difficoltà. Ogni storia ha i suoi lutti. Ogni storia ha i suoi dolori. La differenza la fa il fatto che, quando Perseo decide di attaccare la gorgone, si premura di utilizzare uno stratagemma. Ve lo ricordate qual è? Quello di guardare dove lei si muove attraverso lo scudo che diventava uno specchio. Calvino in questo è straordinario perché dice, eccolo l'umorismo. Vi consente di guardare in faccia il mostro senza diventare di pietra. Questa è la grandezza. L'imparare un animo leggero, un animo capace di osservare anche il mostro senza diventare di pietra. E pensate che quando Perseo utilizza questo strumento, poi che cosa fa? Conserva la testa di Medusa e la mette in un sacco. E anche qui è affascinante perché Perseo poi la usa contro i suoi nemici. E chi sono i nemici di Perseo? Quelli che si prendono troppo seriamente. Quelli che sono convinti di avere tutta la ragione del mondo. Quelli che sono già implosi da tempo sprofondati nei loro dolori. E pontificano dall'alto dei loro piedistalli sul fatto che dovremmo essere molto più preoccupati, molto più angosciati, molto più seri. Dio mio, cerca di essere serio. Ricordo uno studente che mentre facevo lezione incitavo i miei studenti a fare domande, cosa che fanno sempre più di rado. E questo è una cartina di tornasole inquietante. E quindi stimolavo, fate domande, fate domande, e a un certo punto uno dice, vabbè, se proprio vuole gliela faccio questa domanda. Allora, a lei, perché la fanno insegnare all'università? E io ho detto, in effetti me lo chiedo spesso anch'io. E non si sono accorti. No, dico, perché non crede che io sia l'alte... Ma no, ma... Lei ci fa ridere? Siamo sicuri che impariamo? Perché? E da quando la formazione è diventata così noiosa? Ma che è successo? Io lo vedo perché oramai nei luoghi comuni usciamo dicendo, com'è stato il corso? Pesante. Difficile. Esco con il mal di te. Bene, ti è servito. Allora è utile. Immaginate, fate la vostra formazione aziendale, uscite dalla formazione aziendale e dite, ah, sono divertito, cioè... Non lo facciamo più sto corso. Non serve a niente. Cioè, non è che paghiamo per farti divertire. Ah no? No, io ti pago per farti soffrire. Ah, ok. Allora va bene. Se poi qualcuno finisce in burnout, chissà come mai. No? O gli ambienti lavorativi si trasformano in luoghi cupi, tristi, grigi. Avete notato che stanno scomparendo praticamente tutti i colori? Io, mi dispiace, non so, colori troppo sgargianti? No. Ma oramai le macchine o le compri grigie o le compri nere. Punto. Bianco. Ma già il verde... Se c'è qualcuno con la macchina verde non si offenda, eh? Però sappia di essere proprio una... Stanno scomparendo, ci stiamo uniformando. La formazione, almeno quella che ho fatto io, ed ecco la ragione per cui ho riscoperto l'umorismo, o comunque la leggerezza, io sono stato uno studente che si è profondamente annoiato. Recalcati dice, io parlo sempre allo studente stupido dell'ultima fila che ero io. Io, particolarmente intelligente, non ero. Però sicuramente ero annoiato. Ricordo lezioni angoscianti, tanto a scuola quanto all'università. All'università parlavamo, corso monografico, dice, eh dai, io sono dinamite! Porca miseria! Dai, qui, fuoco d'artificio, lo facciamo, niente, un'angoscia terribile, tristezza infinita. Dopo un po', lo sapevate che Nietzsche era malato? Profondamente malato? Molto malato? Ho capito? Amen! Ma, nonostante questo, era dinamite! E poi vi leggerò che cosa scriveva sull'umorismo. E ancora oggi vedo che è così. Allora io lo faccio, come dicevo, per vendetta nei confronti di quello che mi diceva tanto tu, non c'era... Per tutti quelli che mi hanno fatto soffrire una noia terribile, e che sono ancora qui, eh? Sono tra di noi. E sono quelli che, a scuola, con mio figlio, è fantastico, i figli sono favolosi, ti riportano a casa delle notizie, e mi dice, guarda, oggi papà ho fatto, è arrivata la professoressa di latino, e ha introdotto il suo argomento, e ha detto che oggi tratteremo una lingua morta. Cioè, un'ora di necrofilia. Non era particolarmente contento di fare quella roba lì. È diverso, ma il feedback più bello, quando con lui studiamo insieme, no? è quello che lui mi dice, ma con te è divertente, cioè, con te sembra, cioè, sembra quasi facile, con te... Perché non insegni? Eh no, già sto all'università, e già lì si chiedono come mai insegno, figurate se stavo anche al liceo. E... E la cosa più bella, è che per uscire da questo schema, si fa fatica, perché sono schemi che costruiamo da bambini. Gramsci una volta disse una frase, ne ha dette tante, è bellissimo, ma questa a me ha colpito tantissimo. Tutto il potere si fonda sulla pedagogia. È vero. E come si costruisce una pedagogia sbagliata, dove quelli bravi sono quelli seri, e quelli che ridono e si diverso sono dei cretini? Lo sapete dove si costruisce? All'asilo. E voi direte, no, dai Nicola, ho avuto un'infanzia difficile, ma non ero io. Mio figlio torna a casa, giorno della festa del papà, riporta a casa il bigliettino, no, la frasettina, dove leggo oggi è la festa del papà e io voglio tanto bene al mio papà, perché mi fa ridere, ed è molto premuroso ed attento a tutti i miei bisogni. io dico, grazie Matti, l'hai scritto tu? Non tutto. Qual è la parte che hai scritto tu? Fino a mi fai tanto ridere. E l'altra parte, chi l'ha scritta? La maestra. Perché ha detto che ti saresti offeso. Ecco, è così che costruiamo un luogo comune. E poi è difficile toglierlo. Poi arriva Platone, e Hobbes ti dicono che il riso e l'ironia mettono a rischio l'ordine sociale. E sono lo specchio dell'arroganza e della cattiveria umana. Sì, almeno. Finito. Per Atchson e Freud, invece, rappresenta lo spirito cordiale e conviviale dell'individuo e fra le altre cose la valvola di sfogo civile ed evoluta delle pulsioni istintive. Sì, perché l'umorismo è incongruità, superiorità e sollievo. Ah sì, anche sorpresa. È così che si ride quando resti sorpreso. Ma non doveva finire. Ha detto questa cosa. Oh, sentito? Ha detto così. Del finale inatteso che stravolge le conclusioni che ti saresti aspettato e modifica un epilogo a cui siamo abituati. Certo, bisogna fare molta attenzione. Io col timer non ci capisco niente. Ve lo dico per me. Io, ditemi quando... Ecco, bravo. Esatto. Perché c'è un 43, 42, e quindi ho sforato di... Non lo so. So che non dovevo dirlo, ma l'ho detto. Piran... No, dicevo, sarcasmo, umorismo, quindi quanto c'ho dieci minuti? Fatemi cenno quando ne mancano cinque e mi dite... Grazie. Distinguere sarcasmo, umorismo e ironia. Il sarcasmo è la forma più deteriore dell'umorismo ed è frequentatissimo, soprattutto dai depressi. ci avete fatto caso? Cioè, quelli che non vi possono dire brutto bastardo, no? Non rinunciano a punire e vi diranno, carino come ti sei vestito, sembri un alberello di Natale. Avete presente? Ce l'avete qualche collega così? Sono fantastici. Qual è il risultato che ottiene? è che quando tu ti offendi o ti arrabbi e dici, magari riconoscendo il contenuto di veleno che c'è nel sarcasmo, e dici, scusa, alberello di Natale a tua sorella magari, non è, non mi sembra, carino, ma sei per maloso, non si può neanche scherzare. E tu dici, ma come mai? Perché il sarcasmo è una forma di violenza. Esattamente. E' quello là, il complimento della socia, era capito? L'umorismo e l'ironia sono qualcosa di molto più raffinato che implica un livello di sensibilità molto maggiore. Una delle forme più alte di intelligenza che io conosca è l'autoironia. La capacità di prendersi un po' più alla leggera. Sì, perché se gli angeli volano, dice Jean Cocteau, è perché si prendono alla leggera. E questa è la ragione per cui puoi volare. Perché non ti prendi così sul serio. E la forma più alta dell'ironia è lo humor. E Italo Calvino, proprio nelle sue lezioni americane, ci dice come guardando le cose dall'alto le possiamo osservare ridimensionate. Un po' come Pirandello che diceva guardate, se guardate una zampa di un dinosauro isolata dal dinosauro a cui appartiene, vi apparirà terrificante. Poi la riappiccicate al dinosauro e dite beh, è una zampa normalissima. Il problema tutt'al più è il dinosauro. Ok, pessimo esempio. L'ha fatto Pirandello, non ve la prendete con me. L'ironia è una, lasciatemi dire, un'arma di costruzione di massa. In che senso? Che è a disposizione di tutti ed è capace di smantellare interi castelli e li sa anche riedificare. Certo, bisogna rimanere nella consapevolezza che sono castelli in aria e sono molto fragili e bisogna averne molta cura perché possono cadere. L'ironia non si accontenta di radere al suoro le fortezze di sabbia che man mano gli esseri umani costruiscono ma edifica le stesse i nuovi castelli. La vita, dice Alexandru, ma padri, è un rosario di miserie che il filosofo sgrana ridendo. Vedete, è difficile credere che anche i filosofi abbiano questa marcia. Eppure uno dei filosofi a cui sono maggiormente affezionato per chi non lo riconoscesse è Nietzsche un uomo sì, è vero che ha molto sofferto sì, in tutti i sensi a livello di cuore e a livello di testa ovvero sofferenze d'amore e sofferenze legate a terribili mal di testa che lo lasciavano devastato recita nella sua opera forse più importante almeno quella a cui lui era più affezionato che è il così parlò Zaratustra proprio nella sezione dedicata a leggere e allo scrivere dice queste parole non le recito a memoria perché rischierei di perderne dei pezzi e non farei mai un torto simile a Nietzsche io non ho più sentimenti in comune con voi questa nube io la vedo sotto di me questa pesante cupezza di cui rido proprio questa è la vostra nube temporalesca voi guardate verso l'alto quando cercate elevazione e io guardo in basso perché sono elevato chi di voi è capace di ridere e insieme rimanere elevato chi sale sulle vette dei monti più alti ride di tutte le tragedie finte e vere che cosa abbiamo noi in comune col bocciolo della rosa il quale trema per il peso di una goccia di rugiada è vero noi amiamo la vita non già perché siamo assueffatti alla vita ma perché siamo avvezzi ad amare c'è sempre un po' di follia nell'amore ma anche nella follia c'è una parte di ragione ed anche a me che amo la vita le farfalle le bolle di sapone e ciò che loro assomiglia tra gli uomini sembrano di conoscere meglio d'ogni altro la felicità potrei credere solo ad un dio che sapesse danzare e quando ho visto il mio demonio l'ho sempre trovato serio esatto profondo e solenne era lo spirito di gravità grazie a lui tutte le cose precipitano lo spirito di gravità non si uccide con la rabbia orzu uccidiamo lo spirito di gravità ma facciamolo attraverso il riso ho imparato a camminare da quel momento mi lascio correre ho imparato a volare da quel momento non voglio più essere urtato per muovermi adesso sono leggero adesso io volo adesso vedo sotto di me adesso un dio che si serve di me per danzare grazie grazie a tutti